sì allora mi serve il livello come no mi serve il livello poi mi serve un po di ferrofilato sì mi serve la tenaglia come perché cosa domenica devo essere allo stadio per intergenova ho già preso il biglietto devo andare a giustare il piede a candreva che non sa crossare oh fammi sto favore per favore dai sto favore per favore dai fammelo subito per favore sto favore grazie grazie allora ragazzi ho fatto tutto sono pronto domani mattina si parte per milano sarò a san siro anch'io a vedere intergenova sono contentissimo ma innanzitutto ragazzi ho una bellissima notizia per tutti quanti voi stiamo calzando pure il telefonino ho una notizia importantissima per tutti quanti voi uno iscrivetevi al canale mettete la campanellina perché non ci sa mai farò qualche live dentro lo stadio al riscaldamento faccio vedere un po i giocatori poi seconda cosa ragazzi forse forse vi farò una piccola sorpresina qui sul mio canale terza cosa non vedo l'ora ragazzi il genova è battibile quarta cosa avevo ragione il 4 4 2 spalletti ha cambiato modulo 4 4 2 chi mi segue sa avevo ragione ho avuto ho avuto ragione ma l'hanno visto tutti insomma che eravamo prevedibili quindi ragazzi un bacione mario inter sarà allo stadio per inter genova iscrivetevi al canale mettete la campanellina tante sorprese per domenica seguitemi ciao raga ciao 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 ciao